Settantacinque. Settantacinque. Giving reasons. One. Giustificare qualcosa. Uno. Giustificare qualcosa. Uno. Why aren't you coming? Perché non viene? Perché non viene? The weather is so bad. Il tempo è così brutto. I am not coming because the weather is so bad. Non vengo perché il tempo è così brutto. Non vengo perché il tempo è così brutto. Why isn't he coming? Perché non viene? Perché non viene? He isn't invited. Non è invitato. Non è invitato. He isn't coming because he isn't invited. Non viene perché non è invitato. Non viene perché non è invitato. Why aren't you coming? Perché non vieni? Perché non vieni? perché non è invitato. I have no time. Non ho tempo. Non ho tempo. Non ho tempo. I am not coming because I have no time. Non vengo perché non ho tempo. Non vengo perché non ho tempo. Non vengo perché non ho tempo. perché non ho tempo. Non resto perché devo lavorare ancora. Non resto perché devo lavorare ancora. Why are you going already? Perché già se ne va? Perché già se ne va? I am tired. Sono stanco. Sono stanco. I'm going because I'm tired. Me ne vado perché sono stanco. Me ne vado perché sono stanco. Why are you going already? Perché parte già? Perché parte già? It is already late. È già tardi. È già tardi. I'm going because it is already late. Parto perché è già tardi. Parto perché è già tardi. È già tardi. Grazie a tutti